ragazzi i mondiali avanzano e avanza anche bim bum bam speciale mondiali so che ci seguite in tantissimi e sono contenta continuate a seguirci così perché ci sono sempre una montagna di novità cosa c'entra cosa c'entra la montagna pensi a quelli che sono nel mare pensi a quelli che sono nell'acqua e pedali 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 e ce l'ho girato un'altra volta il silenzio che mi disturba la partita pedala o e si peda buon divertimento c'è l'appuntamento con il nostro super bim bum bam bim bum bam è favoloso il programma strepitoso furbo e riverente spesso travolgente questo è il nostro super bim bum bam bim bum bam è proprio tosto e per tutti è sempre un posto vive l'avventura ma non fa paura noi ti aspettiamo a bim bum bam non perdiamo tempo questo è già il momento di guardare tutti bim bum bam di guardare bim bum bam di guardare bim bum bam guardare tutti bim bum bam guardare bim bum bam vi aspettiamo a bim bum bam vi aspettiamo a bim bum bam vi aspettiamo a bim bum bam hey Grazie a tutti.